Cari amici telespettatori, volevo in questo giorno speciale fare gli auguri a un mito della musica italiana che è Gianni Morandi con questo video, farti tanti auguri gialli per i tuoi 73 anni, portati benissimo, sei sempre un grande, hai sempre dimostrato grande professionalità nel tuo lavoro e in tutte le cose che hai fatto, dal cinema al teatro, ti faccio i miei più cari auguri da amico e da fan, salutare tutti quelli che compiono gli anni anche come te, anche ricordando un mito della nostra televisione che avrebbe compiuto gli anni, anche grandissimo Franco Nisi che è nato lo stesso giorno e ne approfitto per fare gli auguri ad entrambi anche se uno purtroppo ci ha lasciato però sto parlando del grande Franco ma sono due simboli della nostra televisione che vanno ricordati in questo giorno speciale. Con questo è tutto, un abbraccio sia a Gianni che alla buonanima del buon Franco Nisi e ci sentiamo in diretta su Facebook. Ciao a tutti dal vostro aspirante conduttore Samuele.